Ma c'era grande attesa per la partita di oggi, per vedere se l'Inter effettivamente avrebbe reagito dall'eliminazione pesantissima della Champions League e di fatto questa reazione c'è stata. Ora, nonostante la rete di Barella e tutto il resto sia avvenuto nella ripresa, a me sinceramente l'Inter è piaciuto più nel primo tempo, quando paradossalmente lo ha chiuso in svantaggio. Secondo me, nella prima frazione di gioco l'Inter ha letteralmente dominato la partita. Cragno ha tirato fuori dal cilindro delle parate straordinarie, dimostrando di essere meditatamente uno dei portieri nel giro azzurro. Probabilmente in questo momento, dato anche il rendimento di Sirigu, Cragno insieme a Donnarumma è il portiere più forte che abbiamo in Italia. Poi ho letto molti insulti ad Andanovic, è vero che nelle ultime partite ha palesato seri problemi di reattività, ma onestamente in questo caso la difesa dell'Inter ha fatto tirare sottile due volte di seguito dentro l'area di rigore e poi il secondo è venuto fuori un diagonale onestamente imprendibile se pensate da quanto vicina è stata scoccata questa conclusione. Quindi, ripeto, per le altre partite non dico nulla, ma oggi onestamente a Andanovic non vedo grandi responsabilità. Io, l'Inter migliore, l'ho vista con Eriksen in campo, sebbene non è che il danese non abbia fatto nulla di straordinario, però onestamente e anche oggettivamente, se vediamo il numero di occasioni da gol create, ritengo che l'Inter abbia giocato meglio nel primo tempo. D'altro canto, il Cagliari ha svolto una partita positiva, ripeto, soprattutto nella ripresa perché ritengo che non sia sensato, neanche utile, insomma, farmi condizionare dai gol, non ha nessun senso, uno deve vedere un attimo come giocano le squadre. Io penso che il Cagliari si sia espresso meglio nella seconda frazione di gioco, dove è riuscito comunque a controllare l'Inter sicuramente meglio del primo tempo. Questo è poco ma sicuro. Chiaramente la differenza tecnica esiste tra le due squadre, però se poi io vado a vedere la classifica, noto come il Cagliari si trovi in una situazione tranquillissima, ha staccato moltissimo Genova, Torino e Crotone, che sono le squadre in zona di retrocessione, ma anche la Fiorentina, quindi ritengo che subisce troppi gol, certo. Ma questo perché di Francesco è risaputo fa un calcio piuttosto propositivo, quindi nonostante oggi sia arrivata la sconfitta per i padroni di casa, per la rete di D'Ambrosio, che era appena entrata in campo, onestamente bisogna riconoscere come il Cagliari abbia fatto il suo massimo per contenere una squadra che è decisamente più forte.